però una bottiglia di vino buono egiziano come la fa borsa? ma che buono, il sessore mi ha soggetto non lo so, no no ma solo a sfero di alcool e ci guardo ti dico perchè non ho... ma tu sei mandati il pezzo lì al colpo si chiama poi c'ho anche il cognac greco lo so, lo vedi, la tassa, lo c'ho anch'io e uso? greco? uso, colorisce l'arrivo, di greco tutto greco, ma... e... Martini sei così no, no, va bene questa, la grappa al panese è splendida va bene, sì ma capiterò una volta in Egitto che ci senti tu voi ancora te ti porto al casino eh, sono andato, ma che c'è che evitato di entrare egiziano? ma la cassa, tu lo sai guarda, anche in Italia anche in Italia evitato di entrare egiziano io sono stato... Alessandria cioè, di fianco al coso, come si chiama l'arriale? si, lo lo si chiama lì lo si chiama lì, lo si chiama lì no, sotto il palestino a terra ah, dentro? si ok, ma l'hanno fatto entrare a lui? come no? scherzando? ma cazzo, ma non mi hanno fatto entrare con l'ha visto adesso siamo andati a Tava siamo andati a Tava oh, hai visto in faccia? io ho detto egiziano non possono entrare i passporti egiziani non possono entrare vai a digliare, sai... ma in Italia non puoi entrare, ma sei entrato ma... ma c'erano le stop machine? c'erano le stop machine o sono tavoli? no, allora, come si chiama lì cazzo, c'erano le stop machine anche tavoli e anche puttane tutto c'era allora siamo usciti, cazzo, praticamente siamo andati fuori, ci siamo ribaltati c'era, cazzo, lo spettacolo delle mignotone russe, cazzo e ci siamo bevuti, ci siamo bevuti tutto, cazzo ma che sai e beve? eh? cazzo, tutti beviamo scherzando ma lui, con questo urmano, come fa? come fa? ma scolta, se ti stai tre giorni all'estate l'avete fatto il tempo anche no, ma lui che adesso, no, è passato no, ti tagliare un giorno e fatti, non si può no, 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 non c'è niente ok, ma sai che c'è un passporto italiano? non ancora non ancora ok ma cosa faccio? sono già auguriato io ma che frega che avevo tu un cazzo io e lui stiamo finendo la potere di capo ma cosa faccio? dicono dai non mi piace per la mano dai non mi piace per la mano no, no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti